Salve a tutti e benvenuti su Plenoctis, io sono Rob, sono un filosofo e siamo qui con la recensione impressioni sul DLC di Alan Wake 2, The Lake House. Non sarà una vera e propria recensione come quelle del modello sera che vedete anche con la grafica con la scritta rossa, ma una recensione senza voto per fornirvi le mie impressioni sul DLC che ho giocato recentemente. Devo dire che come sempre Remedy si dimostra capace di creare un'ambientazione e un sistema di gioco che ti permette di fare un DLC da 2-3 ore senza dover però ricorrere a un budget chissà quanto elevato. Alla fine si tratta di stare in questa struttura che ha 5 piani, che però è tutta particolare, tutta realizzata in modo tale da sorprenderti ogni volta, da farti comunque esplorare abbastanza, da crearti anche un sistema di spostamento che dipende da delle tessere che ti permettono di aprire stanze e quindi tornare indietro, fare un pochino di backtracking e riesplorare anche gli stessi luoghi e gli stessi ambienti che cambiano anche leggermente e in questo modo comunque l'esperienza viene sorretta in maniera ottimale per quelle 2-3 ore che servono a completare questo DLC. Io ci ho messo 2 ore e un quarto, devo dire che la mia progressione è stata anche abbastanza rapida e veloce e c'è questo da dire, anche dal punto di vista ludico si riprende ciò che è il sistema di combattimento e il gameplay di Alan Wake ovviamente anche se è impostato sul modello di control come ambientazione, ovviamente essendo un DLC di Alan Wake rimane quel sistema di combattimento e quel sistema di controllo in un contesto del genere quando ci si trova di fronte ai DLC è normale che vengano fornite un po' più di risorse rispetto al normale perché magari nel gioco principale tu hai la possibilità di livellare il personaggio quindi esplorare per ottenere più risorse magari attraverso i charm di saga oppure attraverso le parole che vengono prese con Alan nella sua parte hai la possibilità di svilupparlo il personaggio e fare in modo di avere più risorse nel DLC devi stare a quello che ti viene fornito, non c'è una progressione quindi magari ti viene fornito anche un po' più di quanto è necessario soprattutto per quanto riguarda i colpi invece ho visto che dal punto di vista dei curativi non ti viene fornito così tanto forse per rendere il gioco un pochino più difficile e darti quella sensazione di terrore arrivi alla fine che hai un solo curativo, comunque due curativi, non tantissimi curativi e il gioco te ne fornisce comunque uno solo proprio perché comunque vuole renderti le cose difficili e fare un vero e proprio DLC pienamente horror con un pacing che sia quello di un titolo horror perciò da questo punto di vista devo dire che il gioco e questo DLC ha lo stesso grado di bellezza data da comunque tutto il fascino di Alan Wake e di tutto ciò che c'è stato inserendolo anche nel contesto del multiverso di Remedy e quindi Control ma c'ha anche quei difetti che un pochino si possono evidenziare in Alan Wake 2 che dipendono un po' da una certa macchino del sistema di controllo per me non è perfetto, a volte è un po' lento rispetto a quello che anche il gioco vuole che tu faccia nel senso che hai dei nemici che vanno più veloci di te o dei nemici che ti prendono e non riesci a cambiare arma o devi ricaricare per forza e non puoi sparare anche se hai inserito magari soltanto un colpo la schivata non è sempre precisa, ne ho detto anche per quanto riguarda la recensione che ho fatto di Silent Hill 2 Remake la schivata in questo genere di videogiochi nei survival horror secondo me non funziona così bene e continua a non funzionare benissimo, cioè si riesce a utilizzare e si schiva anche ma è una meccanica che secondo me non è al passo con i tempi cioè è una meccanica inserita per migliorare un'impostazione che sennò sarebbe troppo statica ma non è una meccanica brillante, sono tante altre le meccaniche brillanti presenti in Alan Wake 2 da appunto la maniera che ti permette di proseguire, da tutto come si incastrano anche tutti gli elementi ludonarrativi di senso ludonarrativo ma la schivata è qualcosa che secondo me non funziona perfettamente il fulcro ovviamente dell'esperienza e quello di cui dobbiamo parlare è la parte narrativa ma proprio come anche Night Springs devo dire che anche questo è delle cause non è che vada ad aggiungere chissà che cosa, ti vengono fornite chissà quelle informazioni che pensavi di non avere, da un lato abbiamo una scena in particolare che non voglio spoilerare che sicuramente anticipa quello che sarà il futuro perlomeno dalla parte di Control e si può vedere anche nel trailer che c'è questa possibile scena ma non la voglio spoilerare che è interessante ma non è che aggiunga così tanto però comunque ti fa vedere un po' una piccola deriva e per il resto il DLC ruota attorno al recupero del concetto di arte e l'estensione del concetto di arte in tutti i campi se abbiamo visto e vediamo costantemente con Alan Wake il discorso di scrivere un romanzo quindi l'effetto che possa avere la parola, la letteratura utilizzando il potere del luogo buio qui si va a vedere anche quale altre arti hanno una loro possibilità di efficacia non soltanto la pittura come può essere più evidente anche dal trailer ma anche per esempio la musica e in generale si va a riflettere sul concetto di arti un altro elemento su cui si va a riflettere che è molto interessante poi sicuramente farò la mia spiegazione di Alan Wake 2 e farò la spiegazione quindi sia di Night Springs che di The Lake House ma questo quando avrò fatto anche la spiegazione di Alan Wake 2 perché altrimenti mancano delle basi e quando avrò fatto anche la mia recensione effettiva di Alan Wake 2 quindi arriverà un po' più avanti però devo dire che per quanto posso dire adesso è interessante come si vada a prendere una deriva che non sia limitata a ciò che abbiamo visto in Alan Wake 2 ma che voglia andare a riflettere sempre su tutto quanto tenendo tutto quanto insieme e che presenti dei personaggi che non siano per forza di cose né monotoni né monocromatici dal punto di vista della loro caratterizzazione ma che costantemente possiedono sia la parte positiva che la parte negativa e certe derive negative della loro azione come per esempio i due scienziati marito e moglie che fanno da sfondo narrativo a questo DLC poi possano portare cioè come Alan Wake è da una parte esso stesso portatore di ciò che poi può produrre il signor Graffio e in generale l'arte di poter far avverare le cose incita e porta implicitamente al pericolo nel senso che al di là di quello che può fare una volontà oscura come quella del signor Graffio anche se io vado a creare dei personaggi a mettere dei personaggi nella storia li sto comunque manipolando li sto comunque facendo diventare altro rispetto a quello che sono sono una sorta di burattinaio che fa di questi personaggi ciò che vuole anche se le mie intenzioni sono buone e lo stesso discorso vale per magari le intenzioni scientifiche di progresso e di ricerca che però producono su chi vanno a imprimersi degli effetti negativi come è il caso del pittore che peraltro è un recupero anche del primo Alan Wake perciò per chi ha giocato il primo Alan Wake è una cosa positiva se andate a recuperare un personaggio interessante del primo Alan Wake e si vede proprio come questa cosa abbia un effetto particolare cioè la ricerca a tutti i costi poi produca dei mostri anche a prescindere dalla presenza oscura cioè non è per forza di cose la presenza oscura l'ombra che si nasconde sotto al lago che produce le conseguenze negative che produce l'orrore a volte semplicemente portare qualcosa alla deriva o avere talmente tanto più potere talmente potere di controllo e quindi il tema di control si inserisce anche in Alan Wake che per forza di cose produce delle reazioni negative non sto spoilerando quindi sono abbastanza vago ma questo è per dirvi che dal punto di vista narrativo pur non aggiungendo granché della trama principale di Alan Wake 2 si va a collocare in mezzo e vestiamo i panni di Estevez l'agente LFBC incaricato della gestione di Coldro Lake del lema di Coldro Lake pur non avendo chissà quale aggiunta di trama quindi essendo semplicemente una sorta di excursus inserito all'interno cioè riprendere qualcosa come una paragrafa aggiuntivo in mezzo alla storia però comunque dal punto di vista della riflessione di alcune riflessioni narrative secondo me si è fatto un buon lavoro e quindi si può essere assolutamente soddisfatto dal punto di vista complessivo ci sta che non ci sia niente come DLC che vada ad aggiungere chissà quale relazioni di trama come dicevo anche inizialmente Control aveva dei DLC che aggiungevano un po' di più ma questo perché comunque serviva avendo creato Alan Wake avendo creato una nuova IP come quella di Control un po' cercare di unirle e darne un senso maggiore anche per produrre qualcosa di successivo con Alan Wake 2 invece si è scelto di creare delle suggestioni con Night Springs e delle altre possibilità di riflessione con questo del Lake House che comunque si rivela un DLC molto positivo niente di eccezionale sulla linea anche ludica di quello che è stato Alan Wake 2 quindi niente di particolare ho trovato un po' di problematiche che riguardano per esempio la gestione dei sottotitoli e non tutto la gestione dei sottotitoli è qualcosa di stranissimo che sembra essere fatta con Google Traduttore del 2004 addirittura Darling viene tradotto con Tesoro con la lettera maiuscola e Content viene tradotto con Contento invece che con Contenuto e si vede all'interno dei sottotitoli che non ha senso questa frase quindi c'è qualcosa di strano in generale anche nella maniera con cui è strutturato il combattimento finale non mi è piaciuto molto l'ho trovato un combattimento non soltanto troppo macchinoso e sbagliato dal punto di vista ludico ma anche proprio dal punto di vista della verosimiglianza rispetto a tutto il resto di quello che c'è stato in Alan Wake 2 e in Control qualcosa di un pochino esagerato pur di cercare di fare qualcosa in più rispetto a quello che si era fatto il combattimento finale non mi è piaciuto molto però questo ovviamente non voglio spoilerare quindi fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate in sostanza sono abbastanza soddisfatto di questo DLC non do un voto perché i DLC si reggono sul gioco principale e quindi non ha molto senso a meno che non siano proprio delle esperienze hyper stand alone con una loro trama e con una sorta di distaccamento rispetto al gioco originale per cui si potrebbe parlare di un nuovo gioco di una nuova opera i DLC di questo tipo non do voto perché sono troppo legati alla storia principale al gioco principale per poter essere valutati per quello che sono e basta quindi però sono soddisfatto fatemi sapere anche voi se ci avete giocato se siete incuriositi in generale cosa pensate di Alan Wake 2 perché ne abbiamo parlato poco anche perché ho fatto tutte le analisi di Alan Wake di Alan Wake American Nightmare di Quantum Break di Control ma manca quella di Alan Wake 2 perché lo sto ancora analizzando lo sto rigiocando nuovamente per analizzarlo al meglio ma così probabilmente saremo pronti per Control 2 e per quello che verrà in questo futuro di universo espanso di Remedy quindi fatemi sapere che cosa ne pensate e noi ci vediamo al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.